Nelle ultime ore si è vociferato del possibile avvicinamento di Matteo Renzi al partito guidato da Antonio Tajani, Forza Italia. Sebbene il tutto non sia altro che una suggestione, Tajani non l'ha presa benissimo e senza mezze misure si è schierato contro il possibile approdo di Matteo Renzi all'interno del suo partito. I toni usati dal leader di Forza Italia sono stati più accesi del solito, dato che Tajani ci ha abituati in questi ultimi periodi a una grande pacatezza nel suo modo di comunicare. Ricorderete quando si schierò contro la tassazione degli extra profitti delle banche, voluta dalla sua collega di governo Giorgia Meloni, usando comunque grande tranquillità nel comunicare. Queste invece sono state le parole usate dal leader di Forza Italia sul caso Renzi. Io non farei mai entrare dentro Forza Italia 1 come Renzi che ha distrutto anche il terzo polo. Forza Italia è un luogo aperto, ma non vogliamo persone che vogliono venire dentro per fare accordi elettorali e poi pugnalarti alle spalle. Come abbiamo sentito è stato un no categorico che non lascia nessun spiraglio di luce per Matteo Renzi, che sembra sempre più emarginato dal resto dei partiti italiani. Iscriviti al canale.